salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un nuovo appuntamento chi vi parla è sempre alessio evangelisti siamo felici di tornare ulteriormente con un video veramente anche questa volta molto importante vogliamo affrontare un video che in in parte l'abbiamo già affrontato questo argomento però nella volta precedente ci siamo avvalsi di un testo che si trova che si trova in un altro evangelo nello specifico ci riferiamo a matteo capitolo 24 ora noi sappiamo che poi il sermone profetico si ripete nei vangeli sinottici i vangeli sinottici per chi non lo sapesse sono appunto i vangeli che riguardano i primi tre vangeli nello specifico stiamo parlando di matteo marco e luca mentre invece giovanni non è considerato sinottico infatti non può esserlo perché viaggia completamente da solo cioè presenta un discorso completamente a sé mentre invece i vangeli sinottici matteo marco e luca praticamente ripetono molto spesso le stesse cose ma da punti come dire si vanno poi a complementare infatti la complementazione è molto importante così come è importante visitare matteo 24 appunto il sermone profetico è bene chiudere il discorso ripetendo e magari aggiungendo cose nuove avvalendoci questa volta di luca capitolo 21 che è molto importante quindi in parte andremo a ripetere ripetere fa bene la scrittura ripete molto il sistema di ridondanza come abbiamo già detto in molti nostri video ricordiamo che abbiamo fatto oltre 300 video e il sistema di ridondanza è un sistema scelto dallo spirito santo per comunicare la sua verità e ovviare a moltissime problematiche che col passare dei secoli e anche dei millenni inevitabilmente si sarebbero presentati non siamo qui a spiegare ulteriormente quello che già abbiamo fatto nell'arco degli anni quindi chi si sintonizza per la prima volta nel nostro canale a monte troverà una buona quantità di video delucidanti e quindi come si dice un passo dopo l'altro benissimo allora io qui davanti a me ho la mia bibbia gloria a dio ho una vecchia di odati e sono posizionato di già nel capitolo numero 21 non ho la più pallida idea di quello che dirò nel senso che ovviamente so che dovrò parlare di quello che leggerò però questa volta come spesso accade di preparato non ho nulla vogliamo ricordare che o ti prepari o non ti prepari ok il signore guida chi parla a prescindere non è che il signore guida solo chi non si prepara e magari chi si prepara non lo guida e eccetera 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 queste cose già le abbiamo dette quindi nessuno è più grande dell'altro ok un sermone preparato non sarà meno che un sermone preparato viceversa un sermone preparato non sarà di più di un sermone non preparato dio ci ha creati i razionali molte volte serve per forza di cose prepararsi prima anche perché uno non è che c'ha tutti i versi della scrittura nella testa a meno che non sei uno di quei pochi geni che sono pochi che veramente si ricordano praticamente tutta la bibbia memoria ma questi sono pochi i comuni mortali sappiamo tutto quello che c'è scritto però se io apro a caso e ti leggo un verso a caso e ti dico che ne so ascolta e sia in dio il forestiere che non sarà del tuo popolo israele sarà venuto di lontan paese per cagione del tuo grande nome e della tua mano possente del tuo braccio stesso quando sarà venuto e avrà fatta orazione volgendosi verso questa casa dove sta scritto sicuramente il 99 punto il 99 di voi non ne ha la più palli di idea questo servizio in seconda cronaca capitolo 6 verso 30 a proposito di quelli che si vantano di sapere tutto a memoria e di dare addosso a chi non sa magari dove si troverebbe scritto un verso piuttosto che un altro io li vorrei incontrare questi faccia a faccia e fatti due o trecento domande per vedere a quante riuscirebbero a rispondere in maniera esatta ai di quelli che si vantano che si vanagloriano nel avere determinate capacità che poi non hanno ma anche se le avessero a discapito di altri che magari non le hanno e per questo non li reputano spirituali ok è quello che sto facendo adesso non è un non vuole essere un attacco ma fa parte dell'insegnamento anche questo deve essere insegnato al popolo di buona volontà e di buone orecchie noi insegniamo bibbia questo è un canale che insegna bibbia e lo fa a 360 gradi quindi i giovani e non giovani che desiderano imparare la bibbia imparate anche queste cose che appunto vi abbiamo appena apportato vi abbiamo appena delucidato benissimo allora ci troviamo negli ultimi tempi della pazienza di dio molto molto presto la tromba suonerà e il gioco scusate il termine ironico gioco si fa sempre vi è più duro il combattimento si fa sempre più duro e dobbiamo combattere contro mille cose la vita le malattie i problemi mancanza di lavoro mancanza di onestà e soprattutto tanti venti di dottrina siamo pieni di venti di dottrine moltissime persone che si reputano di sana dottrina vanno dietro a qualunque evento di dottrina basta che viene uno e ti dice quattro cose senza esaminare a fondo tutto il contesto di quello che dice in tutti i suoi video magari gli vanno dietro e poi ci si accorge che questa è gente terrapiattista o che promuove la cabalà e così via discorrendo ma noi nel nostro piccolo questo piccolo canale vuole perseguire la strada della sana dottrina tutta la sana dottrina e chi ascolta può giudicare ascoltando tutti i video se in tutti i video si trova la sana dottrina chi pensa che in questo canale non c'è sana dottrina lo si rispetta ed è bene che se ne vada benedetto il santo nome del signore ma noi perseguiamo per la lotta alla verità la verità e la trinità il padre il figlio e lo spirito santo che il padre ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui e persegua la sua volontà e si santifichi e lo preghi e cammini con lui come no camminò con dio in quel giorno quando la tromba suonerà come e no che è stato portato è stato rapito in cielo così la chiesa sarà tolta sarà rapita in cielo per poi entrare nel giorno del signore che è di certo non la domenica ma è il giorno spaventevole e terribile chiamato appunto la grande tribolazione il giorno del signore in quel tempo in quel giorno eccetera eccetera questa è la generazione che vedrà o comunque si troverà chi non sarà rapito si troverà in questo periodo cioè il periodo che il signore la generazione che il signore porterà via la sua chiesa la rapirà su nel cielo e solo dopo o contestualmente inizierà la grande tribolazione bene tutto quello che diremo che faremo che leggeremo lo diremo lo leggeremo lo faremo sempre nel nome del padre nel nome del figlio nel nome dello spirito santo che benedetto in eterno a me bene vogliamo leggere luca luca capitolo 21 io vi voglio portare che desidera a navigare con noi ecco benissimo allora in questo momento ci trovate vi trovate a guardare quello che guardiamo noi io non mi ero preparato prima voglio vedere una cosa dove sta dove sta qua allora mi ricordo più dove sta sarà questo sarà questo sicuro va bene così va bene giusto per curiosità come siamo messi bene questa è la parola www.laparola.net prezioso strumento che ci serve per leggere e al contempo farvi leggere anche a voi luca 21 noi andiamo luca 21 ok visualizza testo lo facciamo un pochino più grande poi lo mettiamo qua facciamo così ok facciamo così perfetto ok questo lo facciamo così ok perfetto allora è il verso 5 ok allora è molto è molto quello che troviamo scritto no perché è fino al verso 38 però cominciamo dal verso numero 5 benissimo allora noi leggeremo e man mano che leggeremo non leggerò tutto per poi riniziare quindi inizierò immediatamente a commentare allora il commento si fa come si fa il commento tu leggi leggi un passo un verso una parola quello che vuoi e poi lo lo commenti lo spieghi alla luce di un contesto ok questo è molto importante il contesto biblico si matura tutta tutta la vita cioè tutta la vita tu maturerai il contesto biblico benedetto il santo nome del signore ecco perché tu puoi sentire lo stesso sermone predicato cento volte ovvero lo stesso passo predicato insegnato cento volte da cento persone diverse e ogni persona lo predicherà cento volte e di volta in volta sentirai cose nuove insegnamenti nuovi perché ognuno di noi matura una certa conoscenza e matura anche il contesto sempre più aggiungendo sempre cose nuove e anche se si dicono cose nuove ma comunque vanno sempre a posare su un unico fondamento cioè tu non puoi dire dieci cose diverse ma che non posano sul fondamento quindi ricordate sempre che una verità non è nulla un'altra questo è molto importante benedetto il santo nome del signore allora poi appresso molto interessante quando la scrittura dice poi appresso per esempio se io vado in Giovanni 5 dice dopo queste cose vedete spesso la scrittura nota notate dice dopo queste cose poi appresso dopo questo ora venne dopo questo insomma dopo queste cose poi appresso praticamente il il signore ti sta dicendo poni mente poni mente che quello che si dirà adesso è molto importante e per essere capito però c'è un contesto che è quello precedente ecco qui torniamo a quello che vi dicevamo pochi secondi fa cioè il contesto è importante nella parola di Dio ecco perché la parola di Dio va letta dalla Genesi fino all'Apocalisse poi riletta e poi riletta e poi riletta poi appresso poni mente a quello che ti sto per dire ma poni mente anche alle cose che sono state dette prima non puoi togliere nulla dalla sacra scrittura come molti usano fare ai nostri giorni poi appresso dicendo alcuni del tempio che esso era adorno di belle pietre ecco qui gli uomini stanno come dire elogiando le pietre ok le pietre del tempio che ricordiamo in quell'epoca il tempio rappresentava la presenza di Dio cioè quando c'era il tempio c'era anche Dio c'era anche la presenza di Dio perché così dirà il Signore a Mosè e non solo a Mosè lo dirà anche a Salomone cioè che lui avrebbe dimorato in quel tempio e soprattutto il Signore parlava anche attraverso dell'arca del patto interessante notare che a un certo punto sotto Geremia troviamo che l'arca sparisce quindi qui abbiamo un tempio con delle belle pietre ma senza arca quindi senza parola infatti Dio parlava attraverso l'arca anche se lo faceva attraverso i profeti e così via discorrendo ma il Signore proprio parlava anche attraverso l'arca molto spesso lo faceva e quindi l'arca che appunto rappresenta molte cose fra cui in maniera particolare rappresenta Gesù e nell'arca vi era contenuta la manna appunto il pane della vita la parola cioè i dieci comandamenti appunto la parola e Gesù e il la bara la verga che aveva appunto germogliato e il virgulto la radice di Israele lo zemach la pianticella è Gesù Cristo quindi l'arca rappresenta la parola rappresenta Gesù e c'erano tre cose dentro l'arca queste tre cose appunto sono tre in virtù del di onorare la Santissima Trinità il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo bene questo questo Tempio rappresentava tutto per Israele ma è da notare che era senza arca e d'offerte e gli disse quant'è a queste cose che voi riguardate voi chi? la Chiesa di Gesù Cristo? qui non c'è la Chiesa di Gesù Cristo voi ebrei sta parlando al popolo ebreo che voi riguardate verranno i giorni verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra che non si è diroccata incredibile notare come più di circa duemila anni fa diverse decade prima che avvenisse questo era il secondo Tempio il secondo Tempio è durato circa 500 anni il primo Tempio il Tempio Salomonico è durato circa 400 anni per un totale di circa 900 anni quindi il Signore dice dopo 500 anni guardate che questo Tempio che voi giudei voi Israele riguardate sarà distrutto sarà distrutto pensate che scioccante che deve essere stato per loro ricevere questa notizia che praticamente questo Tempio era stato iniziato a essere ricostruito al tempo di Esdra con Zorobabele quando c'era appunto Nemia e poi è stato completamente ristrutturato ingrandito abbellito in modo mirabile da Erode il Grande e questo Tempio rappresentava era una possiamo dire una delle sette meraviglie insomma del mondo come si suol dire nel linguaggio odierno e questo Tempio oltre ad essere di una bellezza da un punto di vista umano ineffabile rappresentava appunto la presenza di Dio in mezzo di Israele l'accettazione da parte del Signore in mezzo di Israele malgrado non fosse sprovvisto da ben 400 anni dell'arca infatti è chiamato quel periodo dei 400 anni il periodo buio dove appunto non ci fu parola di Dio pronunciata da nessun profeta ecco qui mancava l'arca mancava la parola ma però c'era la parola che era stata detta prima la parola profetica soprattutto detta da Daniele ma perché Daniele profetizzò che poi alla fine sarebbe successo appunto un qualche cosa di molto importante cioè che sarebbe apparso il Messia quindi loro sapevano che alla fine di un determinato periodo iniziato appunto sotto in quel periodo lì quando c'era Ezra Neemia Zorobabele e tutta questa gente sarebbe iniziato il conteggio questo è scritto in Daniele capitolo 9 dal 24 in poi la prima venuta di Cristo è stata datata la prima venuta fisica di Cristo è stata datata con giorno e anno esatto quindi loro le sapevano queste cose di questo ne abbiamo già parlato e Gesù dice guardate che qui non sarà lasciata pietra sopra pietra e incredibilmente questa profezia si è concretizzata si è adempiuta nel 70 dopo Cristo come dice la profezia di Daniele 9 27 è venuto un principe infatti Tito era il figlio di Vespasiano Vespasiano era l'imperatore di conseguenza se Tito era il figlio dell'imperatore lo convertiva in un principe non in un re in un principe e infatti la profezia parla di un principe incredibile come la parola di Dio si palesa per quello che è nonostante malgrado tutti gli attacchi che vorrebbero ovvero che fanno i nemici della parola di Dio ma questi attacchi non fanno altro che condannare loro stessi in una in un futuro terribile in un inferno per poi andare in un lago di fuoco per sempre incredibile hai di coloro che non si pentono dei propri peccati e non riconoscono che la parola di Dio è la parola di Dio e si lo domandarono dicendo maestro ma quando avverranno queste cose magari loro volevano un po' trovare una escamotage possiamo pensarlo possiamo non pensarlo può essere corretto può essere sbagliato non stiamo toccando il fondamento come dire ma chissà quando avverranno queste cose quando ormai saremo alla fine dei tempi che ormai tutto si concretizzerà entreremo nell'eternità chissà come volevano fuoriuscire da questa situazione possiamo pensare tante cose e poi dice qual sarà il segno del tempo nel quale queste cose devono avvenire vedete alla fine dei tempi ci saranno segni manifestazioni appunto noi abbiamo fatto i video una serie di video non mi ricordo quanti cinque sei quello che è dove abbiamo parlato di almeno perché sono più di di cento segni che ci troviamo alla fine dei tempi quando queste cose devono avvenire quali saranno i segni e Gesù rispose e inizia a portare i segni che si sarebbero concretizzati alla fine dei giorni alla fine dei tempi che sono i nostri giorni quindi il Signore Gesù non gli dice non ci saranno segni no no assolutamente lui praticamente elencandogli alcuni segni perché come abbiamo visto sono più di cento elencandogli alcuni segni praticamente è come se gli avesse detto ci saranno i segni altro se ci saranno i segni vedete la generazione del tempo di Cristo dei farisei domandò un segno e un segno non gli fu dato perché giustamente avevano le scritture se non che il segno di Giona che così come Giona stetti tre giorni e tre noti nella pancia del grande pesce così il figlio dell'uomo sarà tre giorni e tre noti nel centro della terra perché noi sappiamo che l'inferno si trova nel centro della terra e anticamente anche lo Sheol si trovava cioè il seno di Abramo si trovava nel centro della terra poi è venuto Cristo è sceso nel centro della terra tre giorni e tre noti poi si è presi tutti quelli che stavano nel seno di Abramo nel centro della terra se li è portati su nel cielo oggi il seno di Abramo non esiste più se li è portati tutti su nel cielo e oggi nel centro della terra restano appunto due unità ovvero una unità è l'inferno l'altra unità è l'abisso prima era trino c'era anche il seno di Abramo ma poi con la morte e la risurrezione come già detto di Gesù Cristo questo appunto andrà a terminare ed egli disse guardate che non siate seduti seduzione sta per tante cose tentazione la tentazione è un qualcosa molto difficile molto difficile da superare da come dire ci vuole molta forza infatti è scritto nella parola di Dio nel Nuovo Testamento che i violenti rapiranno il regno di Dio ovvero i violenti non nei confronti del prossimo lì non parla di una violenza fisica materiale no lì parla di una violenza nei propri confronti cioè del rinunziare a ciò che ti tenta che ti piace che la carne ti attira ma che è peccato non va bene non deve essere fatto allora devi far violenza a te stesso rinunziare a te stesso prendere la croce e seguire Cristo è sacrificio e ci vuole una grande violenza perché questo ci fa soffrire andare contro la nostra carne ci fa soffrire ed è una lotta dura per tutti quanti guardate che non siate seduti la seduzione la tentazione di perseguire una cosa non dritta una via non giusta una via senza luce una via dove c'è il buio è qualcosa di veramente atroce nel senso molte volte più si va avanti con gli anni nella fede e il cammino molto spesso si fa più duro io ho visto uomini di Dio arrivare alla fine dei propri giorni perché appunto diventati vecchi e alla fine di quei giorni affrontare delle prove che sono state le prove più dure che avessero mai affrontato in tutta la loro vita un esempio su tutti Abramo Abramo la prova più difficile della sua vita la affrontò quando ormai era molto vecchio il Signore gli chiese di offrire in sacrificio il suo figliuolo Isacco quando ormai era vecchio aveva e fu la prova più grande che dovete affrontare Abramo vedete come queste cose che noi vi nel nostro piccolo per la grazia di Dio insegniamo sono tutte cose bibliche e quindi perché perché quando Abramo fu pronto divenne appunto il padre della fede ma doveva anche manifestarlo attraverso appunto il suo operato era pronto prima non era pronto per affrontare quella grande prova e allora il Signore lo mise alla prova per una infinità di motivi ovviamente quel sacrificio non si compì mai Dio aburrisce questi sacrifici ma c'è tutto motivo perché il Signore glielo chiese altro che ma adesso questo è sulla dal presente oggetto e dice occhio alla seduzione occhio alle tentazioni ci sono mille tipi di tentazioni ora il Signore ce ne elenca una in particolare che è quella che ci interessa soprattutto quando dice e qui si riferisce al suo popolo il popolo di allora Israele il popolo della fine dei tempi sempre Israele quando si convertirà a Cristo e dovrà passare quello che dovrà passare e ovviamente in questo caso vale anche per noi che siamo la Chiesa di Gesù Cristo e quindi questo vale anche per noi e quindi adesso ci vogliamo soffermare a noi che siamo la Chiesa di Gesù Cristo alla fine dei tempi dice il Signore guardate perché molti verranno sotto il mio nome dicendo io sono esso dicendo io sono Gesù dicendo io sono la verità dicendo io sono il vero movimento dicendo io sono la vera Chiesa di Gesù Cristo oggi la maggior parte delle persone come è scritto in seconda Corinti 11.4 sì seconda Corinti 11.4 dice Paolo ai Corinzi una Chiesa di collo duro perché se uno viene a voi per predicarvi un altro Gesù che noi non vi abbiamo predicato o se voi da esso ricevete un altro spirito vedete parola è spirito di questo ne abbiamo già parlato no perché molti predicano bene però poi ti mandano sopra uno spirito che è diverso ecco qui le cadute per terra all'indietro tutte queste manifestazioni sataniche quindi noi dobbiamo controllare tutto giudicare tutto come è scritto in prima Corinti 1429 mi pare quindi o se da esso ricevete un altro spirito che non avete ricevuto o un altro Vangelo diverso da quello che avete accettato allora voi lo tollerate pensate allora voi lo tollerate wow stiamo parlando dei Corinti oggi giorno la stragrande maggioranza il 90% della Chiesa tollera un Vangelo diverso uno spirito diverso una manifestazione diversa credetemi quando il Signore rapirà la sua Chiesa rapirà il 5 il 6% il 5 il 6% io ho visto gente andare dietro gente andare dietro i personaggi più patetici David Obwar Sondergaard gente involucrata nell'esoterismo Benny Kinn Guglielmo Maldonado Eiseo Bonanno che predica che la terra è piatta predica la Kabbalah predica i Duadami predica che ci sono i reptiliani gente che gli va dietro e gente che dovrebbe essere di sana dottrina gli va dietro a questa gente e non mi fate voi i video che se sentite che io faccio i vostri nomi mi sfidate a confronto siete patetici non mi vengo a confrontare con voi e sicuramente direte vediamo se se la fa sotto ecco bravo sì me la faccio sotto tanta paura bravo ve la do vinta a tutti quanti sì ho paura ho paura di tutti voi per confrontarmi quindi siccome io ho paura va bene ecco non mi vengo a confrontare siete contenti vi faccio contenti a tutti e fratello Giuseppe che dice di lasciare tutti i lavori di abbandonare tutti andarsene a vivere in Sud America in Centro America tutta sta gente qua che noi facciamo i nomi e cognomi gente che viene da Satana gente che che non predica Cristo che o o ti mischia mezze verità perché sapete una mezza verità fa più danni crea più danni che una verità che una mezzogna che sto dicendo scusate una mezza verità fa più danni che una mezzogna totale ma è tutta la verità che dà la salvezza Cristo è la verità tutta questa gente qua che è manipolata da Satana il quale si avvale dei poteri obboi dei poteri oscuri della massoneria dell'ognosticismo poi alla fine il fondamento di tutto è l'ognosticismo il cui fine ultimo è quello di portarti al luciferismo tra virgolette luciferismo perché sappiamo che lucifero non esiste più che c'è Satana ma loro lo chiamano così e così via discorrendo benedetto il santo nome del Signore quindi oggigiorno la maggior parte della gente come dice appunto viene abbagliata da questi seduttori dove dicono io son d'esso io son d'esso prendi l'unzione ricevi l'unzione casca per terra due adami ci sono i reptiliani la terra è piatta incredibile 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 non ho parole la gente che va in chiesa non si sa perché giovani che vanno in chiesa a lodare Dio tutti i mezzi nudi o vestiti con tutti i pantaloni stretti tutte che vanno mostrare il suo corpo vanno a lodare Dio ah ma che fai giudichi 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 l'apparenza ecco brava bravo non giudicare neanche tu me io non devo giudicare te tu non giudicare me quindi beviti tutto oggi molti dicono io sono adesso wow il tempo è giunto non andate dunque dietro a loro è un comandamento non andate con loro l'ecumenismo lo stare insieme con chi non professa questa dottrina non va bene non va bene noi amiamo tutti facciamo del bene a tutti diamo da mangiare all'affamato sia esso massone satanista esoterista agnostico ateo quello che è se stai male ti curo se hai fame ti do da mangiare ma la comunione spirituale no ognuno a casa sua ognuno a casa sua amico mio un poco di lievito lievita tutta la massa non andare con i farisei dice tutti dicono che hanno la verità esatto tutti dicono che hanno la verità e allora che significa questo annulla l'esistenza della verità assoluta il fatto che tutti dicano di avere la verità ma non tutti hanno la verità rispondi materialmente parlando fuori dalle religioni se tu hai un figlio una figlia tu manderesti tuo figlio tua figlia con della gente che si droga si ubriaca sono dei scellerati non vanno a scuola o vanno a scuola e poi scavalcano il muro e scappano tu faresti frequentare tuo figlio tua figlia a chiunque non sei uno che si informa per vedere se i propri figli frequentano persone che non porteranno i loro passi su strade poco convenienti bene quanto più spiritualmente se ci sono persone che hanno intrapreso la via di Caino che porta all'inferno il Signore che è nostro padre e noi siamo i figli suoi ci dice non andate con loro non andate dietro a loro già ma oggigiorno molti sono più giusti più santi di Dio sì sono più buoni di Dio sono più intelligenti di Dio già che triste situazione ora ora quando udrete di guerre turbamenti non siate spaventati oggigiorno ci sono guerre turbamenti sedizioni uno stato si solleva come dire una popolazione si solleva contro il proprio governo abbiamo popolazioni stati interi che si stanno mobilizzando stanno andando via vedi quello che sta succedendo in centro america che stanno spopolando per la grande violenza che c'è perché ai di negli ultimi giorni sarà come ai di di Noè i di di Noè c'era una violenza tale da essere insopportabile di questo ne abbiamo già parlato perciò che conviene non convengono che queste cose vengano prima prima cioè queste cose che noi ci fanno star male ci fanno soffrire certamente non ci fanno piacere ma queste cose si devono si devono concretizzare si devono manifestare attenzione quel signore non è che sta dicendo che queste cose avverranno perché lui vuole questo semplicemente lui conosce che sarebbero successe queste cose perché c'è il libro al vidrio Dio non ha detto di costruire le bombe atomiche non lo ha mai detto questo è l'uomo che ha costruito le bombe atomiche che poi Dio permette quello è un altro discorso ma lì entriamo nei piani di Dio Dio ha sempre permesso questo perché poi alla fine il corpo trova il tempo che trova il corpo è effimero amico mio anche se qualora fosse tutta l'umanità arrivasse a vivere cento anni e non morire mai prima dei cento anni comunque alla fine devi morire e quando tu morirai l'anima e lo spirito tuo andranno o in paradiso o nell'inferno e senza Cristo l'anima e lo spirito noi crediamo anche lo spirito c'è chi dice no lo spirito torna a Dio vabbè ognuno è libero di pensarla come vuole lì non stiamo toccando il fondamento noi non creiamo questo però lo rispettiamo come dire non è il fondamento non stai dicendo che non c'è Trinità o che la Chiesa passerà per la grande tribolazione e così via discorrendo e quindi alla fine il corpo finisce quindi o che Dio si prende la tua anima quando sei un poppante un fanciullo quello che quello che ti pare o se se la prende a cento anni qual è la differenza alla fine il fardello dell'umanità è la morte ed è la morte l'ultimo nemico dirà Paolo e Corinzi ad essere vinto conviene che non vengono conviene che queste cose conviene che queste cose avvengano prima ma non però subito appresso sarà la fine perché ci saranno molti altri segni allora disse come abbiamo potuto vedere nei nostri video allora disse loro una gente si leverà contro un'altra gente un regno contro all'altro regno un regno contro un altro regno si chiama guerre e una gente contro un'altra gente si chiama razzismo wow quanto razzismo c'è oggi quanto razzismo c'è oggi addirittura in Italia si è razzisti tra di noi quelli del nord odiano quelli del sud quelli che non tutti quelle poche capre che ci stanno quelli del sud odiano quelli del nord non tutti però quelle poche capre che ci stanno che hanno l'odio ma ci si può odiare tra connazionali dico io ma bisogna essere cristiani per insegnare queste cose eppure eppure ci odiamo tra tra di noi italiani che dovremo amarci dovremo amarci siamo paesani no addirittura se vai a studiare la storia fino a qualche centinaio di anni fa quando le donne del sud andavano nel nord venivano violentate solo perché erano del sud odio che tristi il razzismo il razzismo è sulla non è un qualcosa da circoscrivere al colore bianco o nero anche quello ma il razzismo è è tutto è odiare il prossimo il movente può essere il colore della pelle lo stato sociale lo stato culturale la posizione geografica da dove vieni possono essere i momenti le scuse diciamo possono essere mille ma alla fine il fondamento è solo uno si chiama ignoranza ovvero nello specifico nel nostro caso chiamiamolo per nome e cognome si chiama peccato il peccato ti rende ignorante il peccato ti rende una capra il peccato ti rende userò un termine che non è carino ma è giusto usarlo in questo caso il peccato ti rende un cretino e un imbecille perché uno che odia un altro solo per il colore della pelle o per la posizione geografica o per il sesso razzismo tra uomini e donne o per la posizione economica o per la posizione culturale è un cretino ed è un imbecille è uno stolto è un chesile è un navale è un iveled come dice il linguaggio originale una gente si leverà contro un'altra quanto razzismo c'è wow vedete Hitler la razza ariana ma voi vi immaginate milioni di persone sono andate dietro a questo pazzo Hitler è stato un prototipo un archetipo si dice in italiano archetipo scusate un precursore della futura bestia che deve apparire dell'anticristo milioni di persone sono andate dietro quel pazzo scatenato che alcuni dicono di rispettarlo come persona ma quello non è stato una persona quello è stato una bestia un animale wow voleva creare una razza faceva non so se clonava faceva le persone che tutte dovevano essere bionde con l'occhi blu o verdi o vatte la pesca un pazzo scatenato massone satanista faceva parte della alta massoneria faceva parte del vril di una associazione massonica di ultra stampo secreto dove dietro c'era gente come Rockefeller come Rothschild tutta sta gente qua che lo ha sovvenzionato il peccato è una brutta bestia in ogni luogo vi saranno grandi terremoti i terremoti che ci sono oggi nel passato non ci sono stati i terremoti che ci sono oggi nel passato non ci sono stati e quelli che verranno saranno inimmaginabili inimmaginabili il prossimo anno dal 2019 aumenteranno ancora di più i terremoti vi saranno fami la fame nel mondo come la conosciamo oggi è roba recente e cose metteranno le mani sopra di voi e vi perseguiteranno dandovi mano alle radunanze e mettendovi in prigione traendo voi ai re e ai rettori per il mio nome i primi discepoli hanno dovuto subire questo e oggi sono duemila anni che stiamo subendo questo e ancora oggi come non mai la chiesa viene perseguitata anche qui in Italia siamo perseguitati sapete alcuni dicono che perché sono capri che noi vi nascondiamo la verità come se voi non foste in grado né di intendere né di volere quando sono duemila anni ancora oggi dove centinaia di migliaia di persone ogni anno lasciano la propria vita in testimonianza in testimonianza di questo Evangelo e tu pensi che un pastore un missionario un semplice credente che lascia la propria vita pensi che lui stia mentendo però con pochi giorni fa è morto un ragazzo è andato un missionario per l'ennesima volta è andato in quell'isola lì che si trova in India dove c'è una tribù che praticamente tutti quelli che si avvicinano li uccidono e questo ragazzo è andato non è il primo che muore così a portargli il Vangelo di Gesù e anche questa volta l'hanno ucciso è la tribù dei Sentinella è chiamata i Sentinella l'isola dei Sentinella o qualcosa del genere trovate tutte le informazioni su YouTube o in giro per il web e laddove nel 2004 ci fu lo tsunami che andò su quell'isola insieme a tutte le alte isole in quell'isola fece dei danni inimmaginabili ma questa è un'altra storia ma attenzione perché ciò vi riuscirà in testimonianza mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa perciò che io vi darò bocca e sapienza la quale non potranno contraddire né contrastare tutti i vostri avversari quando noi andiamo davanti un tribunale veniamo processati perché perché predichiamo Cristo qual è il peccato signor giudice nel predicare Cristo qual è il peccato quando mi trovo nella metro perché io prendo la metro adesso è già un po' che ho posato una macchina per andare a lavorare quando prendo la metro spesso accade che sale qualcuno accende una radio a tutto volume che si sente in tutto il vagone si mette a cantare magari sstonato fa una cacera che non finisce più altri si mettono a suonare fanno una cacera che non finisce più nulla è il contrario in tutto questo e tutti fanno silenzio tutto a posto ma se uno viene e si mette a predicare Cristo allora lì si lamentano allora quello dà fastidio allora turbi la quiete pubblica in una metro già turbiamo la quiete pubblica perché annunziamo Cristo vero? poi quello lì che strilla tutto sstonato che alcuni ti chiedono i soldi anche in maniera coatta quello non disturba la quiete pubblica tutti i siti ma quando viene un predicatore dell'Evangelo ah il mondo il mondo sarà giudicato molto presto è già iniziato anzi il giudizio del mondo già è all'opera il Dio farà tremare la terra altro che terremoti e tsunami dice Dio manda i terremoti e tsunami caprone intanto l'uomo crea i terremoti con il harp e tante altre cose e poi sì ci sono anche terremoti che sono naturali che vengono da sé altri creati dall'uomo e altri vengono da Dio giusto 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 Dio farà tremare la terra Dio perché manda terremoti e tsunami per amore per amore lo abbiamo già detto uno di questi è stato lo tsunami di Socotra di Sumatra da quelle parti là 500.000 morti Dio lo ha mandato perché per amore qualcuno dirà sei un pazzo sono un pazzo ora te lo spiego cosa c'è già le abbiamo dette queste cose cosa c'è lì in Socotra in Sumatra lì dove c'è stato lo tsunami che era del 2004 che cosa c'è lì c'è una delle reti di pornografia infantile più grandi del mondo la maggior parte dei genitori fanno i figli e poi li prostituiscono bambini di 5 6 7 8 anni li prostituiscono li vendono prostituzione vendita di bambini commercio d'organi di bambini bene bene tra virgolette che fa il governo niente si lava le mani è complice prende i soldi e cosa fa l'Occidente l'Occidente che alza sempre la voce Israele si sta comportando male questo sta facendo quest'altro questo sta facendo quest'altro lì tutti zitti l'Occidente tutto zitto gli americani zitti nessuno dice niente non solo cosa fanno gli occidentali la popolazione gli europei gli americani la più grande il più grande turismo sessuale che andava e va ancora in quelle parti per andare a comprare sesso da bambini viene dall'Europa viene dagli Stati Uniti vanno lì quei bambini centinaia milioni di bambini dati così nessuno fa niente l'uomo non interviene uno dei precetti noaitici i sette precetti noaitici non li sto qui a spiegare non li sto qui a promuovere ma è un dato di fatto però ci vuoi essere d'accordo non vuoi essere d'accordo non è importanza non stiamo andando contro il fondamento uno dei sette precetti noaitici recita porrai dei giudici dei tribunali per giudicare il bene e il male per fare giustizia gente che non c'entra niente con Dio ha l'obbligo morale razionale di creare giudici tribunali il mondo non fa niente quei bambini centinaia di migliaia di bambini così che fai Dio gli vengono i cinque minuti giusto ti mandano al tsunami ti ammazza cinquecentomila persone e tutti quei bambini morti che voi non difendevate che voi occidentali prendevate chi lo fa l'aereo e ci andavate a letto insieme ma scalzoni tutti voi sfruttavate e Dio li prende e se li porta con sé e ve li toglie dalle mani e quei grandi che sono morti che non facevano niente e che promuovevano queste cose vanno all'inferno ecco chi è Dio perché manda i Dio queste cose quando lo fai Dio per giustizia per amore già però quando l'uomo crea i tsunami quando l'uomo crea i terremoti di queste cose della guerra climatica si parlò già del dopo guerra nel 1945 quando finì la guerra nasce l'ONU iniziano le prime risoluzioni dell'ONU tra queste risoluzioni c'è la proibizione alla guerra climatica l'uomo è riuscito a manipolare il clima vedi la storia di Nikola Tesla eccetera 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 già quando l'uomo manda il tsunami manda i terremoti no nessuno dice niente se lo fai Dio ai ai or voi sarete traditi anche dai padri dalle madri dai fratelli dai parenti dagli amici fino al punto da farli morire già quanti quanti uccidono quanti musulmani tutti ce l'hanno quei cristiani quanti musulmani stanno uccidendo bambini cristiani di 6-7 anni ah e lì nessuno dice niente poi Dio manda un terremoto tutti contro Dio i musulmani quelli che lo fanno non pochi i musulmani l'islam diciamo l'islam perché i musulmani sono una cosa l'islam è un'altra cosa non tutti i musulmani sono cattivi ci sono tanti musulmani brava gente ma l'islam è una religione satanica e nel nome dell'islam ammazzano bambini oh lì li crocefiggono wow se tu vai in arabia saudita o qualsiasi altra parte con una bibbia a mano su una piazza ti ammazzano ti uccidono e questo tutti lo fanno tutti i musulmani vieni lapidato vieni malmenato poi non parliamo del comunismo in Cina che ti controllano le bibbie tutto che stanno bruciando bibbie e quelle chiese che ci stanno sono controllate per far vedere che ci sono le chiese non parliamo della Russia l'ateismo l'ateismo ha ucciso cento volte più delle religioni paradossalmente sarete odiati da tutti per il mio nome ma pure un cappello del vostro capo non perirà cioè qui parla prima di morte cioè morir faranno mi faranno morire e poi dice né un cappello del vostro capo perirà cioè parla di vita eterna la cosa più importante per il Signore è è l'anima è lo spirito il corpo passa infatti infatti possederete le anime vostre per la vostra pazienza pazienza nella sofferenza pazienza appunto come abbiamo letto all'inizio quando leggemmo che saremmo stati tentati cioè sedotti eccolo qua pazienza nel sopportare la seduzione la tentazione le persecuzioni come abbiamo potuto leggere altro che prosperità ricchezza certo Dio Dio ti aiuta ti dà un buon lavoro non ti fa mancare il pane tante cose Dio le fa queste cose è vero ma no che ti fa diventare ricco miardario come predica l'Evangelo falso della prosperità che alcuni dicono Benichin si è convertito Benichin non si è convertito Benichin non si è convertito Benichin è un gesuita infiltrato e il fatto che ha rinnegato il Vangelo della prosperità non significa che si è convertito aprite gli occhi e Billy Graham per chi non lo sapesse è stato un massone un massone ecumenico lui stesso lo ha dichiarato al New York New York Times lui stesso ha detto queste cose e molti di voi andate dietro un uomo Billy Graham promuovete un film satanico pentitevi come mai non avete discernimento come mai ma come stai come stai Billy Graham wow Billy Graham Gesù lo abbiamo tolto dal pulpito la parola di di Gesù lo abbiamo tolto dal pulpito e sul pulpito ci abbiamo messo il film di un uomo tra l'altro massone 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 Billy Graham è stato un massone sta all'inferno insieme come quell'arto delle adi il vostro amatissimo che mostra sotto terra due metri la prima volta poche parole buon intenditore massoni sono massoni quell'altro che sta sotto due metri sotto terra che sta all'inferno delle assemblee ha detto a mio padre buttati in politica che ti farò fare una grande carriera sono massoni siete massoni il mio cognome è evangelisti io le cose le so a poche parole buon intenditore che deve capire capisca ora quando vedrete Gerusalemme circondata ad eserciti sappiate che allora la sua distruzione è vicina questa profezia si è concretizzata nel 70 d.C si riconcretizzerà alla fine dei tempi perché la storia si ripete ecclesiaste 1.9 ecclesiaste 3.15 allora coloro che saranno nella Giudea fuggano ai monti coloro che saranno dentro di essa di partansi e coloro che saranno su per i campi non entrino in essa sta parlando della fine dei tempi oltre che la storia si ripete queste cose si sono concretizzate nel 70 d.C vedi la fine che ha fatto il Qumran ok perciò che quei giorni saranno giorni di vendetta Dio è un giudice è un vendicativo a me la vendetta dirà il Signore Dio è fuoco ai e cosa terribile cadere nelle mani dell'idio vivente saranno giorni di vendetta a ciò che tutte le cose che sono scritte siano adempiute guai alle gravide altro che nella grande tribolazione non ci saranno bambini o saranno rapiti anche i bambini o le donne non daranno a luce no ci saranno donne che daranno a luce il fatto stesso che non tutti i bambini saranno rapiti lo dice Apocalisse 13 quando dice vi metteranno al marchio della bestia piccoli e grandi piccoli piccoli sono i bambini caprone apri la mente scusate il francesismo caprone ce l'ho con gli apostati non con i cari fratelli guai alle gravide e a quelle che latteranno in quei dì bambini nella grande tribolazione ci saranno apri la mente no che rapirà tutti rapirà solamente i figli dei credenti qualcuno dirà ma perché qualcuno mi ha chiesto perché il bambino viene salvato in virtù del credente non è personale la fede apri la mente la salvezza è personale non può essere generazionale ok il bambino non viene salvato perché il padre è credente il bambino viene salvato perché è bambino e come bambino è un angelo di dio e quindi è già salvato è il corpo che gli viene fatta questa grazia in virtù del fatto che i suoi genitori sono cristiani gli altri bambini che non verranno rapiti non per questo non sono salvati ma il loro corpo resta qui e poi ci saranno tutte le calamità e le sciagure ovviamente moriranno come sono morti quei bambini quando c'è stato il diluvio ma i bambini che sono morti quando c'è stato il diluvio anche se sono morti non è che la loro anima il loro spirito sono andati all'inferno assolutamente no sono bambini sono angeli di dio sono andati su nel cielo possibile che non si capiscono queste cose ma lasciamo stare scusate la mia franchezza che io non ho tempo da perdere perché vedo credenti che ci hanno una marea di anni alle spalle e stanno ancora con l'abc della bibbia quando dirà l'apostolo paolo voi dovreste essere dei maestri ma dobbiamo tornare ai rudimenti essenziali basilari e l'apostolo paolo li rimproverava giusto si chiama amore perciò che vi saranno gran distretta nel paese e ira sopra questo popolo questo popolo sta parlando di israele cadranno per il taglio della spada saranno menati in cattività fra le genti c'è stato vedete come si alterna da questo l'abbiamo già spiegato nel video di Matteo 24 si passa da un secolo all'altro da un millennio all'altro da un'epoca all'altra queste cose si sono già concretizzate gli israeliti gli ebrei sono stati minati in cattività fra tutte le genti Gerusalemme è stata calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili non sono stati compiuti quindi dal 70 dopo Cristo Gerusalemme è stata terra dei gentili fino alla guerra dei sei giorni nel 1967 quando con la guerra dei sei giorni gli ebrei riconquistano riconquistano Gerusalemme poi appresso vi saranno segni nel sole nella luna nelle stelle fermiamoci qua abbiamo fatto un video intitolato la fine del mondo qui nell'originale in greco antico il termine segni nel greco antico c'è scritto semeia nell'antico testamento nella setto aginta porta semeia terata che tra le tante cose significa stendardo immagine e anche bandiera dopo il 1967 quando abbiamo fatto il video Gerusalemme è tornata agli ebrei perché appunto è stata calpestata dai gentili fino al 67 1967 solo dopo poi vedi tieni mente a quello che è successo prima poi nel 1969 la NASA va sulla luna va sulla luna e pone un semeia che significa anche bandiera due anni dopo poi abbiamo fatto il video intitolato la fine del mondo lo potete vedere è nella luna è nelle stelle e infatti poi dopo semeia terata significa anche stendardo immagine infatti con i satelliti che hanno delle immagini e quant'altro nello spazio tutto questo è successo dopo il 1967 quando Israele è tornata quando Gerusalemme è tornata ad essere ebrea e in tempi e in terra e poi e durante e nella terra angosce tra le gente con smarrimento rimbombando il mare e il fiotto quando mai il mare ha destato perplessità paure agli uomini perché qui dice gli uomini spasimando di paura quando mai il mare ha causato paura alla società mai ma oggi lo sta destando perché ci sono gli tsunami e perché il mare si sta alzando gli scienziati hanno detto che stanno scomparendo le isole come scritto in Isaia e il mare sta cambiando le sue correnti il clima la salinità e tutto quanto e questo sta facendo sta concretizzando il cambiamento climatico il mare è diventato un problema per le nazioni e gli uomini spasimando di paura dell'aspettazione delle cose che sopraggiungeranno al mondo perché qui parla della fine dei tempi questo lo specifica in Marco però perché le potenze dei cieli saranno scrollate e allora vedranno il figliuolo dell'uomo venire in una nuvola con potenza in grande gioia qui non sta parlando del rapimento della chiesa sta parlando della seconda venuta di Cristo che dirà Marco queste cose avverranno alla fine della grande tribolazione prendiamola tutta la parola di Dio sta scritto Marco Marco 16 lo vado a cercare nella mia bebbia per fare prima dovrebbe essere Marco 16 il verso non me lo ricordo no che è Marco 16 ma che sto a dire non è Marco 16 perché ho detto Marco 16 mi sono sbagliato mi ricordo più allora aspetta un po' un attimo allora voglio capire Marco 13 eh sì Marco 13 me ne sono sbagliato Marco 13 perché 16 sono 16 capito le stelle le stelle faccio così faccio così vediamo Marco 13 allora devo fare scusate metterò allora eccolo qua ma in quei giorni dopo la frizione dopo la frizione dopo la grande tribolazione allora il sole si oscurerà allora la luna non darà il suo splendore e allora le stelle del cielo cadranno dopo vedi dopo 24 dopo ecco qua stelle ecco qua dopo vedete la scrittura va appresa tutta qui sta parlando che non lo vedi perché si complementano Marco 13 Luca 21 e Matteo 24 si complementano ecco qui i Vangeli Sinottici ecco qui il termine sinottico stimando di paura e di aspettazione le potenze dei cieli saranno scrollate dirà Marco alla fine dopo la grande afflizione dopo e lì non c'è il rapimento della chiesa lì non c'è come Matteo 24 verso 21 lì non c'è il rapimento della chiesa ma di queste cose ne abbiamo già parlato e allora vedranno il figlio dell'uomo venire quando Gesù verrà verrà con la chiesa una cosa è la venuta di Cristo una cosa è il rapimento della chiesa quando ah beh qui entriamo in un altro già ne abbiamo parlato quando bisogna che prima di queste cose sia manifestato il figlio della perdizione e tutto quanto prima di che cosa non del rapimento prima della venuta di Cristo la venuta di Cristo è una cosa il rapimento è un'altra cosa in più quella profezia ha una doppia connotazione di questo ne abbiamo già parlato verrà venire in una nuvola già abbiamo parlato cosa sono le nuvole abbiamo fatto i video nell'antico testamento era appunto prerogativa di Dio cavalcare sulle nuvole lo troviamo scritto molto anche in Isaia quando Gesù ha detto ai rabbini lì nel nel Sinedrio quando l'hanno schiaffeggiato dice vedrete il figlio dell'uomo venire su una nuvola lì praticamente gli ha detto chiaro e tondo io sono Dio perché nel rabbinato cavalcare le nuvole è prerogativa divina solo Yahweh lo poteva e lo può fare venire in una nuvola con potenza con grande gloria ora quando queste cose cominceranno ad avvenire riguardate in alto e alzate le vostre teste perché la vostra redenzione è vicina cioè noi non passeremo per queste cose però Israele si Israele le passerà tutte la Chiesa non passerà per queste cose ma qui quando queste cose cominceranno ad avvenire sta parlando degli ebrei gli ebrei passeranno tutta la grande tribolazione e allora alla fine nella battaglia di Armageddon quando addirittura l'anticristo verrà venire il messia perché nella battaglia di Armageddon sarà la tappa finale dove le nazioni andranno contro Israele per distruggere allora tornerà il signore allora lì addirittura è scritto in apocalisse che l'anticristo farà guerra a colui che cavalca il cavallo bianco il grande dio Gesù Cristo gli farà guerra e ovviamente nel fai di guerra sappiamo che con tutto l'armamento nucleare che ha questo è scritto in apocalisse glielo tirerà addosso ma il signore con il soffio della sua bocca allo spirito santo annienterà l'anticristo e manderà un angelo qualsiasi non dice un grande angelo un arcangelo un angelo qualsiasi prenderà l'anticristo satana la bestia e tutto quanto e legherà satana legherà questo angelo satana e lo getterà nell'abisso per mille anni e poi appunto disse loro una semilitudine riguardata al fico che è Israele ne abbiamo già parlato andiamo a correre e a tutti gli alberi quindi tutte le nazioni quando già hanno germogliato germogliato appunto Israele germogliato nel 1948 quando hanno germogliato voi vedendo riconoscete voi stetti che l'estate è vicina l'estate nella letteratura rabbinica e anche la primavera nella Bibbia c'è questa cosa rappresenta Cristo così ancora voi quando vedrete avvenire queste cose sappiate che il regno di Dio è vicino ecco quel millennio annunciato io vi dico che questa età o generazione non passerà finché non siano avvenute tutte queste cose Salmo 90 verso 10 dice che un'età dura 70 anni al massimo per i più forti 80 il cielo e la terra non passeranno ma il cielo e la terra passeranno scusate ma le mie parole non passeranno guardatevi che talora i vostri cuori non siano aggravati di ingordigia né di ebrezza né delle sollecitudini di questa vita e che quel giorno di subito improvvisamente non sopravvenga per ciò che a guisa di laccio egli sopraggiungerà tutti coloro che abitano sopra la faccia della terra tutta la terra sarà scossa dirà Isaia 13 e i riferimenti vegliate altro che casca per terra indietro e dormire veglia o fare yoga e annullare la tua mente veglia stacci con la testa il cristiano non va che non capisce più niente o che annulla la sua mente o che annulla il suo spirito o che casca per terra indietro e si mette a dormire queste vengono da satana queste cose il cristiano veglia ci sta quando prega veglia e sempre con la testa accesa il cervello sempre in moto vegliate dunque orando in ogni tempo a ciò che sia reputati degni di scampare di tutte le cose che devono avvenire scampare tutte le cose la chiesa scamperà perché sarà rapita Israele morirà quasi tutti ma non tutti dove è scritto i 144.000 moriranno i due testimoni moriranno gli ebrei saranno perseguitati e molti cadranno per la spada ma solo il rimanente dirà mi pare Isaia sarà salvato e mi pare che Paolo lo riprende questo passo in Romani mi sfugge adesso e di comparire davanti al figliuolo dell'uomo cioè Gesù ora di giorno insegnava nel tempio e le notte uscito fuori dimorava sul monte detto degli olivi per pregare e anche riposare e tutto il popolo la mattina a buon'ora veniva a lui nel tempio per udirlo chi si sveglia presto c'è un detto bene approfittiamo insomma il tempo questo è stato il video è stato un video che rispecchia anche il nostro modo di essere il nostro modo di insegnare franco duro molto duro e più passa il tempo e meno si dice scusate il termine meno peli sulla bocca abbiamo a chi piace piace a chi non piace si rispetta se qualcuno non è d'accordo con il modo di insegnare di questo canale lo rispetto e non è obbligato a vederli questi video bene allora chiudiamo perfetto allora il video è stato questo ok perfetto bene cari amici è giunto il finale del video che Dio vi benedica grazie per essere stati con noi preghiamo gli uni per gli altri preghiamo la sua parola affinché la luce di Cristo dimori nei nostri cuori e che Dio vi benedica e se il Signore vorrà ci si vede al prossimo ci si vedrà al prossimo video programma con voi come è sempre è stato Alessio Evangelisti Shalom Dio ti benedica o Vi Grazie.